ma si l'abbiamo sempre guardate non è quello bisogna aprire piano piano non è che si sono mai però vedi oggi li vedo un pochino più sveglietti l'altro giorno stavano stavano ma che stanno male papà quando sono piccoli sono così ma come stanno male ma guarda come stanno bene tre stanno bene l'altro ma stanno sempre così papà basta